Frentino, io ti guardo. Frentino, io ti guardo. Ti dico che cosa, ma tu niente. Non mi rispondo. Frentino, che ti è successo? Ora è da tanto che ti guardi dagli campi sportivi. Sei sempre gli stessi. Vedi sempre gli stessi profili, gli stessi ditti. Ogni tanto cagli coloro della facciata. Che volta che alberi si muove e vende, ma tu non ti muovi. Non importa niente da quello che ti sta succedendo a Trento intorno. Oh, ma che ti è successo? Mi stai a preoccupare. Ti non ti accorgi che al luogo Trento non ci potremo di più? Ogni tanto si sente che qualcuno si è feroce che gli muoce intera. Può trovare un posto per la macchina che ti fa almeno due volte il giro passendo per la circolazione o a terra per Sant'Agata. Ma è possibile che non ti dà una mossa, una sgrullata, come si diceva una volta? Ora mi sto a far parlare e non mi rispondi. Ti pare bene, ma forse perché sei vecchio. Ma come? sei nato prima di Roma e ora sei l'ultimo. Ma tu hai proprio di fare più niente. Che ti è successo? Prendi, rispondi. Prendi, ma se proprio non mi rispondi. Almeno rispondi. Terentino, 2 marzo 2002. ed è un'acciao. Ed è un'acciao che. Ul Workaltità